Si ricomincia, si ricomincia, oggi è il 31 agosto, ridendo e scherzando, è il 31 agosto, domenica sera eravamo alla festa Poggioli fine Bravio, a prendere i miri, e oggi sempre a lavorare. Ma chi le ha ci stanno smuovendo i quadri di vincenzo? Non so, giusto, io, revaldo. Però, questi vanno lì, noi non li chiamo fare a voi. No, no, scherzo, sono pronta e dobbiamo spaccare i culi nonostante tutto, perché anche la mia regista sarda diceva che, ah io, facciamo con quello che abbiamo, e allora facciamo con quello che abbiamo davvero, e no, questo è il teatro. Siamo tutti, siamo tutti, aiuto, resisti. Come arrivi vedere le foto dell'anno scorso? L'anno scorso sono vestiti di cacca. Ora dilatta. Quest'anno non si avviene. No, non si può siedere. La campana è una botta. Quindi siete cariche? Cari. Cari. Non so. Facciamo vedere il bigliettino. Sì. Brava Alessia. Poi io, quando posso riesco il personaggio, io vivo il personaggio, e vivo dentro il personaggio. Cioè, per me ora, Pita, Anna, Mila e Tommy non ci so, ma ci sono stati per nove mesi. Ora ci sono ammati, italiani, italiani. È una cosa strana da spiegare, però è così, capito? Cioè, per me ora, Pita, Anna, Mila e Tommy non ci so, capito? Cioè, per me ora, Pita, Anna, Mila e Tommy non ci so, capito? Cioè, per me ora, Pita, Anna, Mila e Tommy non ci so, capito? Mi vanno e le opere. Sarebbe molto breve, in teoria, la trama del porno. Magari. Magari. Poi, anche i soldoni. Più che altro, dovrebbe... Sarebbe molto breve, in teoria, la trama del porno. Incapacità informatica. Cioè, questo? Cioè, al contrario, c'hai anche il computer, guarda. Non ci posso più credere. Finalmente hai finito il copione. Che ne pensi? Che non ce la faccio più. Sono soddisfatta di questa prova. È venuto come pensavo. Quando rivedrai questo video, sono tutti mesi, e penserai, ma che cazzo me l'ha fatto fare? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti